Dali Sarri è l'amministratore delegato di LS Xenia, una realtà importante che nasce a Siena. Di cosa si occuperà questa nuova azienda? La LS Xenia è il nuovo spin-off della lavanderia sienese, opera anche essa nel settore del turismo e si occupa di tre attività principali. La prima offre il full service, cioè con un unico costo a camera è possibile offrire un servizio di lavanderia, quindi fornitura di biancheria, pulizia, allestimento camera, materiali di consumo e linee cortesia, oltre ad altre attività come le manutenzioni e l'F&B. Con un unico costo a camera è possibile quindi gestire il costo della camera all'interno della struttura. La seconda attività è attività di consulenza, quindi noi siamo in grado con le nostre persone di fare attività di assistenza e consulenza nell'ambito del brand management, quindi del profit management e intervenire nella brand reputation. Altra attività che facciamo sempre in questa attività di consulenza è la gestione dell'housekeeping, quindi la consulenza nell'ambito di gestione dei processi di housekeeping. L'ultima attività nata e che nascerà ora dal primo di aprile è rivolta prevalentemente alle piccole e piccolissime strutture, quindi piccoli B&B, piccole case vacanze, dove a San Gimignano offriremo un punto vendita dove è possibile trovare tutto ciò che serve per l'allestimento della camera, quindi fornitura biancheria, linee cortesia, materiali di consumo e altri prodotti necessari per la gestione delle camere di una piccolissima struttura. Noi abbiamo la capacità di avere un'incompleta integrazione di processo, quindi dalla lavanderia, quindi lavaggio e noleggio biancheria, fino alla sistemazione e allestimento della camera. Questo ci permette a noi di avere la particolarità di poter personalizzare anche le varie camere in relazione ai gusti dei clienti. Questa è una delle attività ovviamente che viene richiesto nell'ambito anche del processo di vendita delle stesse camere, quindi noi siamo in grado di personalizzare le camere in relazione sia ai clienti sia ai periodi di attività della struttura. Oggi un confronto con tutti gli addetti al settore, con gli imprenditori che insieme a voi stanno per aprire questa stagione, sono importanti i numeri del flusso su Siena ma allo stesso tempo è sempre più complessa la sfida del mondo turistico. Certamente, la volontà è quella di accettare questa sfida e di percorrere un tratto della filiera dell'ospitalità in terra di Siena e dare il nostro apporto affinché l'offerta sia sempre più qualificata. Le sfide sono quelle di costituire una partnership in realtà con i nostri clienti in quanto a fornitura di materiali, in quanto a fornitura fondamentalmente di servizi perché la giornata di oggi testimonia la volontà del gruppo Lavanderia Senese e Tecnolab di affrancare i propri clienti sul fronte dei servizi oltre che quello tradizionale di fornitura della biancheria per il letto e per la tavola. È un'ottima stagione da quello che possiamo prevedere dalle nostre prenotazioni indubbiamente è ancora un po' presto per parlarne come tutti gli anni però fa presagire un'ottima stagione, spererei indubbiamente migliore di quella che abbiamo appena concluso che è stata una delle migliori. Quello che ci è dato sapere, hotel di nuova generazione non ne vengono costruiti quindi camere tutte uguali come sono gli hotel oggi non ci sono. Le nostre strutture nel Chianti sono una differente a un'altra quindi il problema secondo me oggi non è più pulire la stanza ma come prepararla e andiamo sempre in conto a problematiche sempre crescenti perché non riusciamo ad ottimizzare mai questo prodotto che poi è la base di tutte le nostre vendite. Quando si parla di camera pulita è una camera, quando si parla di preparare perfettamente una camera come prepararla ecco quello diventa un prodotto e oggi poter presentare sul mercato un prodotto competitivo è la chiave di volta per crescere di brand e quindi riuscire ad aumentare i prezzi motivo per cui lavoriamo tutti ecco.